...pareggiare il risultato ottenuto in batteria ad Ancona, ai campionati italiani assoluti. Poi o si è disorientato per una partenza così spedita e quindi si è un po' indurito... Beh lui è un partente, è difficile che si sia disorientato, dai! Eh ho capito, è... Meglio che si fosse disorientato, certo! Il terzo e gli altri, più forte possibile per sperarne il ripescaggio. E' partito ancora bene Fabio Cerruti. E' come ieri però, oggi vanno anche più forte. Femi Ogunode stavolta è andato forte, 6.55. Lui... Beh era atteso ad una conferma, possiamo dire che è arrivata, perché insomma l'altura più di 2.000 metri a Flagstaff aiutano parecchio. Qui invece, proprio a livello del mare, il mare sta qua fuori e questo 6.55 non male. Pari tempo con Kimmery Roach, sono loro i due qualificati. Il terzo e il quarto fanno meglio, la media degli armadi che si trovano su quelle pedane. Il saltatore di Clermont Ferran.